Allora, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un metodo alternativo a quei prodotti per disinfettare che non si trovano più. Prendete un litro di alcol, l'alcol denaturato, lo mettete tutti quanti in una ciotola. A questo alcol aggiungete tre cucchiai di acqua ossigenata. Quindi tre cucchiai di acqua ossigenata, poi mezzo cucchiaio, tale che devo controllare, sì, mezzo cucchiaio di glicerina, eccola qua, e poi mezzo bicchiere di acqua bollita o di acqua distillata, questa è acqua bollita, mezzo bicchiere. Mescolate il tutto e poi con una siringa, eccola qua, prendete tutta la quantità che volete, no? E riempite dei recipienti. Io qui praticamente, e qui succedono le dirette, purtroppo c'hanno questo di bello, che succedono gli incidenti. Riempite tutti questi piccoli recipienti in maniera tale che potete metterli in borsa, portarli lì dietro, prepararli anche per le persone, diciamo, care, ok? E poi, mi raccomando, quando lavate le mani, quando lavate le mani, non fate soltanto il lavoro che facciamo sempre, dovete lavarli bene qui, tra le dita, tra le dita, il pollice. Ecco, mi raccomando, perché questo sembra che sia uno dei mezzi più incisivi per difenderci dal coronavirus. Auguri.